L'aquilano Jacopo Intini e la sua fidanzata possono tornare a casa. I due cooperanti erano bloccati a Gaza sotto pesanti bombardamenti. Il ritorno di Jacopo a casa è per tutti gli aquilani motivo di grande sollievo. Negli ultimi giorni abbiamo tenuto contatti stretti con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per capire se ci fossero le condizioni per un suo rimpatrio. Lo ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il primo cittadino del capoluogo di regione non nasconde la sua preoccupazione e ha voluto ringraziare la Farnesina per aver provveduto non senza difficoltà al suo rientro insieme con quello della compagna palestinese. Biondi ha voluto seguire personalmente il delicato processo.